Sta per calare il sipario sulla mostra L'Umbria sullo schermo, dal cinema muto a Don Matteo, organizzata dalla fondazione Cari Perugia Arte. Il percorso espositivo allestito a Perugia a Palazzo Baldeschi, che offre una panoramica dei film girati in Umbria che hanno fatto la storia del cinema nella nostra regione, si concluderà infatti domenica prossima, 15 gennaio. Restano soltanto due giorni, dunque, per visitare l'esposizione allestita con le clip di alcune pellicole ambientate nel territorio umbro, ma anche con i manifesti dei film, con macchinari cinematografici d'epoca e con le foto degli attori umbri che hanno raggiunto una fama nazionale ed internazionale, come Monica Bellucci, Laura Chiatti, Marco Bocci e Filippo Dimi. Spazio anche al regno delle Fission, con i filmati di alcune importanti produzioni, ma anche con oggetti simbolo, come la bicicletta originale di Don Matteo e il bancone di Luisa Spagnoli. Legato all'esposizione il libro Catalogo edito da Acquaplano, scritto da uno dei curatori della mostra, l'esperto cinematografico Fabio Melelli, che racconta le curiosità e il rapporto tra registi, film e attori con la nostra regione.